Laura. Acchiappo un personaggio solo quando è finito, di solito. Quindi quello che ti posso dire di Laura è che è fondamentalmente indefinibile, è camaleontica, cambia. Pur di ottenere quello che vuole, è disposta a modificare se stessa per poi dentro questo turbine di cambiamenti fermarsi e improvvisamente, come per magia direi, specchiarsi e trovare se stessa. Il rapporto di Laura con l'amore e le relazioni è complesso. C'è un rapporto di Laura con l'amore e le relazioni visto dall'esterno e c'è il rapporto di Laura con l'amore e le relazioni visto dall'interno. Queste due visioni dentro il nostro spettacolo e dentro un'esplosione poi daranno frutto a qualche cosa di nuovo che scopriremo insieme.